Ciao a tutti, come va? Spero tutto bene. Io stavo pensando a una cosa, un dubbio che mi è venuto. Fra poco qua sarà una specie di forno. Il caldo arriverà a livelli tali che io magari se continuerò questo format no edit, registrerò a petto nudo e dove me lo attaccherò il microfono? Nei peli del petto? Vedremo, vedremo, questi sono dubbi molto importanti. Un'ottima notizia per chi stava aspettando il quinto capitolo dei morti viventi di Giorgio Romero. Tra l'altro anch'io lo stavo aspettando, ma mi è successo di tutto e tutte queste cose che sono successe hanno fatto sì che la registrazione e l'edit rallentassero. Ma oggi ho appena finito di editare tutto il capitolo ed è imminente la pubblicazione del quinto capitolo dei morti viventi. Oggi invece leggiamo un altro racconto sempre tratto da Il libro dei morti viventi, l'antologia curata da Stephen King. La storia di oggi si intitola Sassofono, dello scrittore Nicholas Royle, quello delle Rolls Royce praticamente. Buon ascolto! Le risposte furono quelle che lui aveva temuto. Era praticamente impossibile ottenere i visti necessari per conto di un'altra persona, a meno di non lasciare il paese e impegnarsi in attività pericolose e armate. Non che questo entrasse in conflitto con i suoi principi, visto che non ne aveva alcuno. Ma era rischioso. Le squadre pirata che infestavano il purgatorio della Jugoslavia erano soggette ad attacchi incendiari tanto da parte delle forze occidentali quanto di quelle orientali. Le truppe ungheresi pattugliavano in piccole unità armate fino ai denti di granate alla termite, mentre gli aerei americani sganciavano bombe al napalm fiduciosi del fatto che le vittime sarebbero state prevalentemente orientali, diciamo al 70%. Hazek tornò indietro strisciando lungo la stretta trincea di cemento che era costretta a usare per arrivare all'ufficio informazioni per i visti. A un incrocio di tre passaggi si fermò, riposando contro il muro la schiena ferita, e sgranchì le dita, facendole correre velocemente e senza sforzo su una tastiera immaginaria. Riemersa in prossimità della piazza principale di Tirana, forse di fronte a una delle molte statue decapitate di Stalin, quattro figure lacere se ne stavano rannicchiate davanti a uno schermo tremolante sotto un riparo di lamiera ondulata alla sua a sinistra. Due stavano fumando. Un atto impossibile, in quanto inalare ed esalare erano ormai operazioni superiori alle loro capacità, ma le vecchie abitudini erano dure a morire. Un terzo uomo aveva sollevato una bottiglia alla bocca sfigurata e si versava alcol nella gola. Un altro atto inutile, data l'assenza di sete e di ogni sensazione fisica. Quegli uomini non erano necessariamente nuovi del posto. Alcune creature si trovavano là da mesi e si dedicavano ancora ai loro vecchi desideri più per abitudine che per bisogno. Azek doveva fare il modo di unirsi a una delle squadre che effettuavano sortite oltre il confine e a volte fino a Belgrado, ma per fare questo doveva raggiungere il quartiere Shkodra della città e per arrivare là gli serviva un mezzo di trasporto. Trasporti pubblici non esistevano più, quindi doveva mettere le mani sul primo veicolo che trovava. Trecento lec, gli disse il vecchio albanese. Trecento, stai scherzando! Guardò allibito il vecchio e scassato veicolo a tre ruote. Con questo non posso arrivare nemmeno a Durres, figuriamoci a Shkodra. È un buon veicolo, trecento lec, ottimo prezzo. Cerca altrove se vuoi. Azek sapeva che cadare lo aveva in pugno. Non c'era nessun altro a cui rivolgersi. Il vecchio possedeva una specie di monopolio sulla città e pertanto sul paese, poiché la città si era espansa a tal punto che ormai le due cose erano diventate una sola. Duecento, tentò Azek. Trecento, fu la risposta senza esitazioni. Il serbatoio è pieno, la batteria è carica. Per quasi tutta la strada guidò con una mano sola. Con la mano sinistra mimava le note basse di Tease Foolish Things, mentre le dita della destra battevano quelle alte sul volante. Il cielo appariva brevemente fra i muri di cemento e i tetti di ferro rugginosi. Per le strade giravano letteralmente migliaia di persone, vittime di guerra, i loro ospiti albanesi e alcuni rifugiati europei o americani che erano riusciti a sfuggire al conflitto e ad entrare prima che venisse introdotto il controllo sui visti. Più si spingeva a nord, più il ferro e l'acciaio sembravano dominare l'architettura decrepita a spese del cemento e della pietra grezza. I morti erano dappertutto. Camminavano da un edificio all'altro, erano visibili anche attraverso le brecce nei muri, seduti a guardare la televisione o a giocare. Skodra era vicino e appena oltre stava la Jugoslavia e la sua unica possibilità di ottenere un visto per Hela. Lei aspettava Berlino Ovest, controllando ogni giorno all'unità di duplicazione, dove sarebbero arrivati i documenti se Azek avesse avuto fortuna. «Perché vuoi unirti a una squadra?» gli chiesero un po' sospettosi. Aveva deciso di non dire la verità. Gli avrebbe soltanto creato ulteriori difficoltà. «Voglio fare qualcosa, sono stufo dei giochi!» «Così per te sarebbe solo un gioco!» «No, anzi, è così che rendiamo ricco il nostro paese. È una faccenda seria!» Loro lo fissarono. «Voglio essere utile!» Sapeva che mentiva. I morti non facevano mai nulla per il bene di qualcun altro, se non per caso. Agivano soltanto nel loro interesse, schiavi dell'istinto, ma stando alle apparenze aveva usato le parole giuste. «C'è una squadra che parte stanotte, senza un uomo!» «I gas di Zolfo lo hanno ucciso qualche settimana fa, ma lo hanno lasciato in grado di muoversi, fino a oggi!» L'uomo tirò fuori una piccola mappa della zona e cominciò a disegnarci sopra. «Guarda, qui è dove dovresti incontrarli!» Era come una gola fra due enormi isolati scheletrici di appartamenti in cemento, costruiti all'inizio della guerra, quando le prime vittime arrivavano via mare e si spingevano verso l'entroterra. Le luci erano rossastre e ammiccanti. Una vecchia jeep dell'esercito jugoslavo arrivò sussultando sulla strada piena di buche, sballottando i due occupanti. «Perché hai voluto unirti a noi?» chiese l'autista, un russo di nome Varnov che aveva subito ustioni così gravi da risultare a prima vista completamente privo di pelle su tutto il corpo. Indossava una larga divisa rattoppata che risaliva ai tempi del vecchio esercito albanese. Lui è la Jensen, una danese alta e robusta con strani occhi color malva e i capelli tagliati corti, tinti di nero. Avevano raccolto a Zek e un altro membro del gruppo, Volmer, un tedesco dalla pelle scura, e adesso si trovavano a pochi minuti di distanza dal confine. «Per avere qualcosa da fare!» rispose a Zek senza distogliere lo sguardo dalle montagne. Anche qui la città scalava i pendii con ferro e acciaio e case prefabbricate sulle quali brillavano gli eterni riflettori. Il cielo era una ragnatela di antenne di ricezione e di sistemi radar di avvistamento. Finora le difese erano risultate impenetrabili alle forze militari, anche se in realtà del paese si sapeva ben poco, oltre i suoi confini e quelli jugoslavi. Alla frontiera non avevano problemi, grazie a un accordo fra i due stati. La Jugoslavia conduceva sporchi traffici di armi in cambio di denaro e viveva tanto con l'est quanto con l'ovest, mentre l'Albania manteneva il proprio isolamento. Dopo che molti albanesi di nascita avevano appoggiato la decisione dei loro capi di accettare l'offerta della chiesa greca ortodossa di acquistare Corfu e di trasferirsi là gli attuali abitanti dell'Albania, i reietti, gli esiliati e i morti che costituivano la colonia più numerosa attraversavano spesso il confine per godersi una parte delle possibilità di sfruttamento offerte da quel paese. Il che era proprio quanto ASEC stava facendo ora. La squadra di Varnov avrebbe gironzolato fino a individuare persone vive che fossero particolarmente vulnerabili alla loro specifica forma di aggressione. Stavano entrando nella periferia di Titograd, dove non c'era carenza di trafficanti del mercato nero, le persone con le quali la squadra avrebbe finito con il fare affari, ma il loro numero continuava ad aumentare, poiché molti altri fioccavano nel paese, al punto che anche dopo gli interventi delle squadre della morte i loro ranghi non risultavano sottigliati. Da una stradina laterale si levò del fumo e un veicolo lasciò il suo nascondiglio così bruscamente che la jeep della squadra dovete sterzare con violenza verso destra per evitare una collisione. Volmer, il tedesco che sedeva dietro alla sinistra di ASEC, lanciò un grido gutturale. Due rebbi di un rampino lo tenevano inchiodato contro l'incastellatura della jeep, uno piantato nella spalla, l'altro nella fronte. Una catena tesa filava dal gambo del rampino e spariva nel fumo, agganciata all'altro veicolo, ancora nascosto ma già all'inseguimento della jeep. Un secondo rampino cadde con un tonfo sul tetuccio e fece sbandare la jeep. Varnov cercò di riprendere il controllo, ma l'aggressore comparve alla loro sinistra e urtò pesantemente contro la fiancata. Lo scossone rimise la jeep sulla rotta originaria e mentre ASEC tagliava la catena del rampino posteriore e la Jensen sul sedile del passeggero lavorava sul rampino anteriore. Varnov riprese completamente il controllo del mezzo. Poi, usando il vantaggio della sorpresa, sterzò di colpo a sinistra e piantò al muso della jeep contro il lato anteriore destro dell'altro veicolo, una camionetta corazzata ungherese. ASEC e Volmer, che si era liberato dal rampino, aprirono il fuoco sull'unità ungherese. Una granata rimbalzò sul loro cofano ed esplose lontana sulla destra. Poi anche la Jensen sollevò la sua arma e sparò diverse raffiche di mitagliatrice attraverso lo spazio che separava i due veicoli. Anche se la fiancata del mezzo corazzato era visibile, i suoi occupanti se ne stavano al coperto. Però restavano attivi, sparando colpi sporadici senza eccessiva precisione, anche se una pallottola attraversò la spalla di ASEC, mancando il muscolo per pochi millimetri. Varnov passò qualcosa a Volmer, dicendo «Usa questa! Non posso mirare mentre guido!» Volmer diede un'occhiata. Era una granata a let termite, ma prima che avesse la possibilità di lanciarla, tutto il suo corpo sussultò all'indietro facendo perno sul collo. ASEC ruotò il capo. Un uomo era balzato dall'altro veicolo e adesso stava in piedi sul loro paraurti posteriore, serrando una garrota intorno al collo di Volmer. Il viso dell'uomo mancava per metà. Il naso, la bocca e il mento erano scomparsi, spazzati via in qualche scontro precedente. Erano rimasti solo brandelli di carne davanti alle vertebre superiori, che ASEC riuscì a scorgere attraverso lo spazio vuoto dove un tempo era stata la gola. Chiaramente quell'uomo era uno dei loro, non un soldato ungherese. Ma una volta aperte le estilità, era difficile lasciar perdere. L'uomo liberò una mano, estrasse una pistola dalla cintura e sparò a ASEC. Il cieco fu gettato sul pavimento della jeep dall'impatto della pallotola, che si era piantata sotto la sua scapola destra, e mise un grugnito, non per il dolore, ma per il dispiacere di vedersi atterrato in modo così poco cortese da un uomo che stava dalla sua stessa parte. Puntò la sua pistola, ma i proiettili flagellarono l'aria. Il filo metallico aveva tagliato il collo e la spina dorsale di Vollmer, e l'aggressore senza faccia era caduto in mezzo alla strada stringendo la testa del tedesco. Nel frattempo la Jensen aveva recuperato la granata ed, esperta, l'aveva lanciata alta, facendola ricadere dentro la camionetta ed esplodere all'impatto. La termite lampeggiò sfolgorante, mostrando i contorni dei tre morti restanti mentre si carbonizzavano e venivano rapidamente distrutti. Certamente gli uomini sulla camionetta corazzata erano stati pirati, come lo erano Varnov, Vollmer, Asek e la Jensen, alla ricerca della stessa cosa, ma caduti nell'errore di scambiare l'equipaggio della jeep per alcuni dei loro bersagli viventi. Ora i tre dovevano continuare la loro missione senza Vollmer. I resti del suo corpo sedevano ancora inutili accanto a Asek. Varnov e la Jensen non pensavano che Asek potesse trovarsi lì per motivi diversi dai loro, dei predare i vivi del loro particolare bottino, che in Jugoslavia veniva facilmente barattato contro semplici contanti o in cambio delle risorse tecnologiche e dei prodotti di lusso, su cui i nuovi albanesi facevano affidamento. Non erano impegnati in quella missione per il bene collettivo, ma perché spinti da un istinto personale. Se un uomo possedeva dodici televisori, di certo non sarebbe mai riuscito a guardarli tutti contemporaneamente, quindi il suo vicino poteva prendergli ne uno senza che lui quasi se ne accorgesse. In una terra dove la popolazione aveva così pochi desideri, il modo per accontentarli consisteva nel ricorrere a un sistema tutto sommato anarchico. Tutte le aspirazioni potevano cercare un accomodamento, tranne che in alcune eccezioni. A Zek era una di queste. In vita era stato uno spirito creativo, un uomo di musica. Quei ricordi lo tormentavano ancora. Anche adesso le sue dita suonavano antropologi sul calcio e sulla canna del fucile mitragliatore mentre la jeep procedeva. Attraversarono un'altra zona di fuochi stando attenti in modo particolare alle nubi spesse di fumo basso. Ella Elizabeth Burton scrutò la strada alle sue spalle prima di voltare nella Gotterstrasse. I suoi sospetti non erano infondati. Era sorvegliata da alcune settimane da quando aveva conosciuto e cominciato a frequentare Trefzegger. Rumoroso avversario delle armi chimiche e batteriologiche ancora prima che la guerra iniziasse, da anni era un uomo segnato, almeno per le autorità, etichettato di volta in volta come comunista, pacifista, anarchico e comunque sempre considerato una testa calda per di più pericolosa. Lui viveva sotto la costante sorveglianza delle autorità civili e militari di Berlino Ovest. Negli ultimi giorni, tuttavia, si era dato la macchia ed ella faceva del suo meglio per evitare di essere seguita nei suoi spostamenti. Fare l'amore al lume di candela era preferibile al sesso con le torce elettriche, esperienza che avevano dovuto subire nel vecchio appartamento di Trefzger quando gli agenti di sorveglianza in strada nel palazzo di fronte avevano continuato a giocare con le loro torce sulle finestre delle tende chiuse. Ella si piegò in due per varcare la finestra dello scantinato e avanzò tastando i muri che si sbriciolavano fino alla porta sul lato opposto. Aprì la serratura e richiuse la porta dietro di sé. scese i gradini coperti di muffa e di muschio e superò un'altra porta chiusa a chiave. Si trovava nella galleria abbandonata della U-Ban progettata, costruita e mai usata e dovette procedere di nuovo a tentoni. Si aspettava sempre che un treno scendesse sferragliando lungo i binari arrugginiti ma non era mai successo e neppure in futuro sarebbe potuto accadere. Sei colpi portarono Trefzger alla porta. Lui la fece scivolare dentro prima di salutarla. In questi tempi stai diventando piuttosto nervoso Detlef. Lo rimproverò lei. Dovrei andare a vivere in Albania. Ribatte lui. Dove sta il tuo Asek? Non è il mio Asek. E comunque Berlino è il luogo ideale. Dall'Albania il tuo lavoro non raggiungerebbe mai nessuno. Al contrario hanno eccellenti sistemi di comunicazione probabilmente i migliori al mondo. La guardò. Entriamo. Più tardi mentre stavano sdraiati sopra un tappeto e lei gli accarezzava i lunghi capelli biondi lui chiese come è andata la giornata all'unità di duplicazione. Parli come se io lavorassi là. Ho solo aspettato un'ora. Non è arrivato niente né documenti né messaggi però credo che ogni giorno possa essere quello buono ormai. Deve proprio desiderarti molto Ella. No non lo credo penso che voglia qualcosa da me che voglia usarmi la solita vecchia storia. Sai disse Trevsker mettendosi a sedere non dovresti fingere di essere così cinica mi accorgo benissimo che sotto sottoprove ancora qualcosa per lui. Sei geloso disse lei grattandogli dolcemente la schiera. Lui le posò una mano sulla coscia no non sono geloso un giorno ti stancherai di me così come ti sei stancata di lui. Lui è morto in un attacco chimico un anno fa lo avevi già lasciato Ella sette otto giorni prima non ti eccitava più proprio come un giorno non ti ecciterò più nemmeno io questo non è vero Ella si mise seduta e gli fece passare una mano sul petto lasciandola poi scivolare verso il suo inguine tu mi ecciti lui non mi ha mai eccitata Trevsger sapeva che non era vero e sapeva anche che quella non era una bugia ma una specie di codice si girò per inginocchiarsi fra le sue gambe lei avvicinò il viso e lo baciò lui le baciò il mento il collo le spalle e i seni mordicchiando dolcemente lei aprì gli occhi per vedere se questo l'avrebbe aiutata c'era la scrivania di Detlef il suo computer il monitor con lo schermo coperto di simboli greci giornali libri penne matite non serviva a nulla quel catalogo di banalità non riusciva ad estrarre il suo corpo tremò mentre lui le succhiava il seno e sentì chiaramente la carne che pulsava fra le sue cosce con il respiro sibilante ignorò il dolore e sollevò leggermente le gambe tutto bene si disse lei fra un respiro ansante e l'altro la tua asma si continua lui non si mosse così fu lei ad avvicinarsi ad aprirsi di più a scivolare sul suo pene lui rispose cominciando a muoversi e lei lanciò un grido che si ridusse a un ansito il respiro le usciva ormai come un rantolo aspro ma lei lo incalzò a continuare ad aumentare il ritmo e la violenza lui venne di colpo e anche lei raggiunse l'orgasmo poi ricadde all'indietro e si staccò dal suo corpo respirando in fretta e rumorosamente ecco trefzger le aveva preso il suo inalatore ella premette lo stantuffo e inalò due volte è ridicolo disse ansimando fra un respiro e l'altro si dovrebbe finire col farci l'abitudine e io invece peggioro ogni giorno un dottore l'altro giorno mi ha detto che se non avessi questa roba indicò l'inalatore e dovessi avere una crisi seria potrebbe diventare una faccenda grave mi stavo chiedendo disse trefzger lentamente perché dovesse peggiorare in questo modo poi oggi l'ho capito sono i germi tutte quelle armi batteriologiche per la maggior parte sono composte di minuscole spore tularemia antracce peste bubonica e roba simile agiscono come irritanti la percentuale presente nell'aria non basta uccidere ma è più che sufficiente per aggravare la reazione asmatica o almeno così succede lontano dalle zone di guerra più attive per per questo non penso che dovresti andare a belgrado o a tirana devo farlo ha bisogno di me vuole tornare a vivere e io sono l'unica persona che può aiutarlo tieni più a lui che a me la voce di trefzger sembrò ferita non è vero non capisci lui ha bisogno di me per cinque minuti non è chiedere molto non vuoi avere un figlio da me da lui ne è avuto uno bastardo lei lo colpì al viso grazie per avermelo ricordato si rialzò furiosa e andò sul lato opposto della stanza dove rimase immobile per un istante e poi crollò in un angolo suo figlio che Azek non aveva più visto dopo la nascita perché lei lasciandolo aveva portato al bimbo con sé era morto all'età di otto anni sotto un massiccio bombardamento aereo ad Hannover la mazza d'acciaio di Varnov calò sulla testa del tenente e l'uomo cadde con uno schianto fragoroso tirandosi dietro parecchie sedie di legno erano a bel grado adesso dopo aver guidato attraverso enormi gruppi di bambini che vagavano senza meta avevano trovato quello che cercavano un'unità vulnerabile di uomini sani una battuglia di soldati americani con le uniformi coperte da pesanti sopraviti scuri stavano completando una transazione con un gruppetto di ribelli cecoslovacchi i due gruppi erano immobili lungo le pareti opposte della stanza con le loro armi impilate nel mezzo quando la Jensen buttò giù la porta e Varnov e Asek entrarono di corsa dietro di lei il tenente americano estrasse una pistola automatica da sotto il soprabito e sparò diversi colpi beccando Varnov e Asek prima che Varnov lo spedisse sul pavimento con il suo mitragliatore Asek liquidò il cieco che avanzava verso di lui provando l'ombra di un ricordo davanti alle mostrine sulla tuta mimetica del ribelle anche quell'uomo era cecoslovacco come un tempo lo era stato Asek ma ora non significava nulla c'era un lavoro da sbrigare era importante sparare il meno possibile in modo da non danneggiare gli organi vitali che erano il loro vero obiettivo l'unica cosa che Asek Varnov e la Jensen dovevano temere era un attacco incendiario o esplosivo qualcosa che rovinasse a tal punto i loro corpi da renderli inutilizzabili inoltre se qualche foro di pallotto la qua e là non costituiva una grossa secatura anche il fuoco concentrato di armi automatiche poteva in teoria distruggerli così quando i ciechi si lanciarono verso le loro armi e guantarono il lanciafiamme in cima al mucchio Asek e la Jensen si lanciarono a disarmarli ma non furono abbastanza rapidi un cieco biondo e dei capelli irti che non poteva avere più di 17 anni riuscì a mettere in posizione la sua arma e la Jensen che stava proprio di fronte al giovane attese la propria distruzione a mezzo del fuoco ma non successe nulla gli altri ciechi dovettero affrontare lo stesso problema gli americani avevano venduto loro armi difettose il giovane agguantò un fucile automatico e lo puntò contro gli americani di nuovo non successe nulla gli americani nel frattempo vedendo scemare di colpo la loro popolarità si erano affollati in un angolo cercando di aprire una porta che per precauzione il comandante cieco aveva chiuso a chiave in precedenza Azek e il giovane cieco armato adesso di un fucile mitragliatore funzionante calarono addosso gli americani uno dei quali aprì il fuoco scegliendo con scarso acume Azek quale bersaglio le pallottole trapassarono inefficaci il corpo dell'uomo morto e il cieco biondo innaffiò a sua volta di proiettili l'angolo degli americani fu bloccato da Varnov che prima lo colpì con la mazza dietro le ginocchia poi quando cadde sulle rotule il ragazzo lanciò un urlo mollò il mitragliatore e svenne mentre Azek controllava che gli americani fossero morti Varnov teneva fermi i ciechi e la Jensen tagliava loro sistematicamente la gola preservando così tutti i loro organi Azek disse Varnov Azek al solo sguardo le scatole sulla jeep Azek comprese e lasciò la stanza tornando con le scatole che contenevano i cilindri per la conservazione degli organi trovò Varnov e la Jensen già al lavoro sui cadaveri due batterie di strumenti chirurgici giacevano aperte sul pavimento la Jensen posò un bisturi e raccolse una piccola sega Azek la guardò mentre tagliava la fronte del giovane cieco e si metteva al lavoro sul cranio ma dando a non segare troppo in fretta e a non danneggiare il cervello Varnov stava estirpando un cuore con il massimo di velocità e di macelleria doveva continuamente asciugarsi le mani ossute sulla giubba per evitare che il bisturi gli scivolasse dalle dita Azek disse loro che non aveva pratica e non possedeva neppure gli strumenti e pertanto avrebbe saldato le operazioni nessuno dei due replicò così lui lasciò la stanza scese di sotto e si mise a sedere sulla jeep in giro non c'era nessuno e nel cielo non si scorgeva traccia di luci naturali fino a quel momento i solidi palazzi grigi di Belgrado avevano resistito bene alla guerra in pratica erano ancora tutti in piedi Varnov aveva parcheggiato la jeep in mezzo a due esemplari imponenti ma alquanto incolori di quell'architettura e al loro confronto perfino Azek sembrava qualcosa di vivo le sue mani si modellarono intorno al ricordo del suo sassofono e le dita si scaldarono su alcune scale prima di attaccare St. Thomas di Sonny Rollins la suonò tutta poi rallentò il tempo e proseguì direttamente con You Don't Know What Love Is aveva suonato altre sei canzoni alcune con lunghe improvvisazioni quando Varnov e la Jensen apparvero carichi di scatole all'ingresso dell'edificio scesero i gradini e si avvicinarono alla jeep proseguirono proseguirono a nord ovest fino a Zemun dove Varno aveva fissato il suo appuntamento con Larry un trafficante americano Larry il cui cognome se mai esisteva non era noto a nessuno non faceva discriminazione in materia di nazionalità era disposto ad accettare gli organi di chiunque anche di un americano a patto di avere dei compratori che facevano la fila anzi specialmente quelli di un americano poiché spesso infiorettava le sue tirate da imbonitore con l'orgogliosa vanteria che quello che stava per vendere non era un semplice rene ma un rene americano di conseguenza molti dei suoi compratori erano americani il cancello controllato elettronicamente si spalancò e Varnov si fece avanti seguito da vicino da Azek e dalla Jensen Larry li aspettava sulla porta con la sua camicia di lana a scacchi e la pancia gigantesca entrarono e percorsero in fila indiana numerosi corridoi la stanza in cui arrivarono sembrava il centro nevralgico dell'operazione di Larry era anche il suo soggiorno un televisore in un angolo era sintonizzato su una partita di football americano sul pavimento accanto alla logora poltrona posta di fronte al televisore c'erano tre lattine di birra americana e un contenitore per cibo di polistirolo sporco sull'altro lato della stanza c'era una fila di monitor e di terminali di computer uno schermo mostrava le variazioni minuto per minuto delle principali valute in tutto il mondo un altro forniva l'ora esatta di tutte le capitali più importanti diverse scatole per la conservazione stavano ammocchiate in attesa su una panca di legno bene avanti amici disse Larry pulendosi i denti vediamo cosa avete Larry esaminò il contenuto dei cilindri e annunciò che avrebbe preso tre reni due fegati due paia di polmoni un paio di testicoli e un cervello spero che sia un cervello americano sì lo è mentì la Jensen sollevando il cilindro che conteneva il cervello del ragazzo biondo cieco tutti gli americani si erano beccati qualche pallottola nella testa anche i testicoli sì anche questi disse Varnov ed era sincero Larry spiegò che non poteva correre il rischio di comprare anche gli altri organi poiché non era in grado di prevedere quando avrebbe trovato altri compratori li pagò in dollari e tornò sulla sua poltrona a guardare il football e ad aprire un'altra lattina di birra prima ancora che loro fossero usciti dalla stanza tornati sulla jeep Varnov divise il denaro Azek notò che la sua parte era minore sia pure di poco e pensò che ciò fosse dovuto alla sua mancata partecipazione al lavoro di svisceramento accettò il denaro una grossa somma più che sufficiente le sue necessità senza far rilevare la differenza tornarono a Belgrado Varnov e la Jensen per tentare di scaricare gli organi invenduti a un altro trafficante e per discutere con Petrovic uno jugoslavo l'abbonamento al nuovo sistema televisivo di comunicazioni via satellite e Azek anche se gli altri due non lo sapevano per cercare di incontrarsi con Migli un corrotto attacche un corrotto attacche britannico presso il governo jugoslavio jugoslavo non c'era carenza di funzionari corrotti ma Migli era quello per il quale Azek aveva una presentazione durante il breve tragitto Azek ebbe appena il tempo di far volare le dita intorno a I found a new baby Varnov guidava a rotta di collo si era aspettato che Larry acquistasse l'intera partita e adesso aveva fretta di trovare un altro compratore prima che la notte finisse voleva rientrare oltre la frontiera prima dell'alba per ridurre al minimo il rischio di ulteriori attacchi fu tutto così facile così banale la jeep si fermò fra uno stridio di freni dinanzi a un grosso edificio fortificato e Varnov saldò giù dicendo che forse quel trafficante avrebbe preso la roba però loro non avevano mai trattato con lui e quindi la cosa non era certa Azek disse che avrebbe provato presso un trafficante di cui aveva sentito parlare in una strada poco lontana e poi sarebbe tornato a riferire Varnov e la Jensen che presumibilmente avevano sentito ma erano poco interessati a dirlo scomparvero nell'edificio Azek si diresse a est lungo boulevard Rivulsi per 200 metri poi volto nella Milana Rakiccia tre isolati dopo girò a sinistra e parlò in un citofono allora perché vi servono questi visti chiese autoritario Migli facendo entrare Azek in uno studio dalle pareti rivestite di pelle sul retro dell'appartamento molto elegante disse Azek guardandosi intorno cerco di mantenere un certo stile ribatté Migli visibilmente compiaciuto bevete? lanciò un'occhiata a Azek oh no certo scusate uno scotch con acqua grazie ho preso l'abitudine a berlino oh davvero? Migli versò nervosamente lo scotch da una bottiglia di cristallo e l'acqua ghiacciata da una caraffa e quando siete stato a berlino? otto anni fa ho conosciuto un'americana che viveva là insieme bevevamo molto scotch poi si è trasferita allora per quei visti? certo Migli passò ad Azek il bicchiere Azek lo prese e aspettò inutilmente che l'altro si voltasse quindi si versò il contenuto del bicchiere in gola con un colpo solo apparentemente nervosito Migli si girò e andò dietro una scrivania aprì un cassetto frugò al suo interno tirò fuori un paio di occhiali da presbite li infirò poi proseguì la sua ricerca Azek sperò che lo scotch con acqua avesse imboccato un percorso non danneggiato verso il suo stomaco se fosse filtrato fuori da una ferita in qualche punto lui non sarebbe riuscito a sentire l'umidità e magari avrebbe macchiato senza accorgersi il pavimento dell'inglese non che gli interessasse evitare danni alle cose di un altro solo che non voleva informare quell'uomo delle sue debolezze un visto un visto di transito con ritorno autorizzato non è vero? un ciuffo di capelli neri e lucidi un po' matati gli era scivolato sulla fronte cercò di lasciarseli indietro mi basta poterla vedere per due minuti il guaio è che sono i più richiesti e i meno disponibili di solito sono madri capisce che per qualche morbosa ragione vogliono venire a vedere i loro figlioli morti qui a Belgrado specialmente non so se si è accorto di quanti pochi bambini ci siano a Tirana quasi tutti vengono trattenuti a Belgrado non ne capisco il motivo visto che Belgrado è molto più pericolosa di Tirana ah ecco signora Zek forse questo tipo di ragionamenti non è più per così dire alla sua portata non trova? quindi io non me ne preoccuperei più di tanto se fossi in lei era chiaro che Migli stava nascondendo qualcosa ma come aveva così giustamente sottolineato non era una cosa che riguardasse a Zek i visti sì invece senta Migli voglio i visti e li voglio ora ho il denaro che chiede tolse di tasca un fascio di banconote non posso più aspettare gettò il denaro sulla scrivania Migli lo raccolse sfogliò le banconote e annui sì certo mi consenta almeno di far sembrare ufficiale la cosa prese un timbro di gomma lo inchiostrò e lo premette sui piccoli riquadri di carta sul suo sottomano ormai desideroso di concludere in fretta l'affare tese i documenti a Zek il cieco li prese e si voltò per andarsene con la mano sulla maniglia della porta esitò come se gli fosse venuta in mente una cosa per caso cominciò voltandosi ancora verso Migli lei non ha da qualche parte un sassofono vero? eccoli sono per me sono quelli che stavo aspettando l'impiegato sbirciò attraverso due lenti spesse e rotonde come occhialoni da tornitore il foglio di carta che usciva dalla macchina Ella Elizabeth Barton lesse ad alta voce ha un documento gliel'ho mostrato un suo documento lei frugò in tutte le tasche e finalmente trovò la tessera giusta grazie questi sono suoi le allungò i duplicati dei visti e una nota dettagliata di ASEC Ella lasciò l'unità di duplicazione e scese rapidamente la Franklin Strass fino alla Hans Rüther Platz dove salì su un treno della U-Bahn diretto verso Allesch Stor esaminò i visti la autorizzavano a passare a Berlino Est attraversando il muro e a viaggiare attraverso la Germania Est la Cecoslovacchia e l'Ungheria fino in Jugoslavia il viaggio di ritorno non doveva iniziare più di 24 ore dopo il viaggio di andata consultando la sua cartina vide che probabilmente in Cecoslovacchia avrebbe attraversato Keb molto vicina ai confini con la Germania Est e quella Ovest dove ASEC allora membro della sezione ceca di JEDS aveva innescato l'inizio della guerra fuggendo all'Ovest le guardie ceche gli avevano sparato dietro lo avevano mancato e avevano colpito invece due guardie della Germania Ovest i cui colleghi avevano risposto al fuoco il resto era storia con il presidente Eastwood che aveva autorizzato lo spiegamento e l'uso delle armi chimiche e Gran Bretagna Francia Austria e la Germania Ovest che si erano schierate al suo fianco il treno di Hella passò sotto il muro e avanzò lentamente attraverso le stazioni fantasma verso la Frigrigstasse dove lei avrebbe effettuato l'attraversamento ufficiale mentre il suo treno attraversava sferagliando il ponte sul Danubio nell'avvicinamento finale alla stazione di Beograd Dunav la strana sensazione che aveva provato fin dalla partenza si fece più forte diventando quasi palpabile a Belgrado non avrebbe certo trovato ciò che lei si aspettava a parte questo aveva sofferto di asma fin da quando il treno era sceso dai monti della Moravia e procedendo verso sud la situazione era peggiorata si diede della stupida per non aver tenuto sempre con sé l'inalatore per non aver pensato di fare prima una scappata a casa per essere andata subito dall'unità di duplicazione al muro e iniziare così il suo viaggio oltre che dall'ipotetico effetto delle spore della polvere di cui Tresger gli aveva parlato la sua asma era aggravata dall'ansia che provava si alzò e andò la toilette per vedere se un sorso d'acqua le avrebbe fatto bene non gliene fece si guardò nello specchio scheggiato e cercò la bellezza che spesso gli altri gli avevano trovato sì c'era ma solo per qualcuno che vedendo il suo viso avesse ricordato come era stato un tempo potevano illudersi che le unghie della guerra e della tensione lasciassero solo cicatrici temporane anche lei poteva farlo nei suoi momenti di minor pessimismo si pettinò all'indietro i lunghi capelli infilando le dita fra i nodi non c'era sapone l'acqua le scivolava rivoletti sulla pelle unta se non altro riuscì a togliersi la sporcizia dagli angoli degli occhi lasciò la toilette più ansimante di prima Asek aspettava nella stanza dove lui Varno e la Jensen avevano colto di sorpresa gli americani e i ciechi sedeva su una serie di legno in mezzo alla stanza e mimava Just You Just Me sul sassofono tenore che aveva comprato dopo essere uscito dall'unità di duplicazione gli erano rimasti soldi a sufficienza per l'acquisto dello strumento forse il solo ancora in vendita in tutta Belgrado adesso gli mancava una sola cosa quella che Ella gli avrebbe fornito il respiro per suonare le note riusciva quasi a sentire gli accordi di Now's the Time mentre le sue dita si muovevano sui tasti quello che non sentì fu il rumore della porta che si apriva improvvisamente lei fu là sulla soglia ansimante e con un'espressione di autentico dolore dietro di lei si scorgeva una forma più piccola Asek si alzò posando il sassofono sulla sedia Ella è asma era incapace di esprimere una preoccupazione che non provava si ma come fai a parlare usando solo l'aria che entra nel corpo è sufficiente per parlare ma non basta per quello che voglio fare è una brutta asma sì sono tutte le porcherie nell'aria e avere trovato lui qui a Belgrado e a questo punto fece avanzare da dietro di sé un bambino con gli occhi fissi il viso appariva tirato e azzurrognolo lasciando intuire una morte per asfissia Asek e il bambino si fissarono in silenzio senza che nessuno dei due volti tradisse qualsiasi emozione Asek parlò Ella vieni qui tu sai cosa voglio no non posso Ella non deve preoccuparti voglio solo respirare di nuovo dopo te ne andrai libera non ti cercherò mai più te lo giuro ti credo ti credo Asek ma questo non cambia nulla non posso il bambino ma ti ho chiesto di venire sei venuta ti prego un minuto poi potrei andartene tu non capisci voglio respirare voglio suonare musica respira respira in me baciami no lei scrollò il capo mentre il suo petto continuava ad ansimare cercando di ingoiare aria il bambino Asek guardalo il nostro figlio Asek guardò non vide nulla lui aveva bisogno del respiro di quella donna la musica contava niente aveva importanza finché lui non fosse riuscito a suonare una singola nota ho passato un'intera giornata ad agonizzare ma se la mia asma mi consentirà di far risorgere qualcuno deve essere Alex nostro figlio una vettura si fermò davanti all'edificio e le portiere vennero sbattute mi dispiace Asek disse lei inginocchiandosi fino ad avere gli occhi del bambino all'altezza dei suoi e prendendogli la testa fra le mani posò la bocca su quelle labbra inerti strinse le narici fredde fra due dita tirò un profondo respiro e soffiò dei passi risuonarono sordi sulle scale ella ripete l'operazione e perse quasi conoscenza tanto le riusciva difficile respirare provò ancora una volta e nello stesso istante la porta cedette di fronte a due intrusi Varnov e la Jensen se fossero tornati per lui o per corpi nuovi da saccheggiare Asek non lo seppe mai ella sollevò gli occhi sorpresa e poi inorridita il bambino si allontanò dalle sue mani prima che lei potesse stringerlo di nuovo la mazza di Varnov la colpì alla mascella frantumandola e piantando i denti inferiori nelle gengive superiori distruggendo per sempre ogni speranza di ulteriori resurrezioni accanto al muro il bambino era scosso da sussulti la Jensen mulinò un'arma simile a una mazza ma munita di chiodi e avanzò verso Asek il cieco si cercò addosso un'arma qualsiasi trovò un piccolo coltello che allungò davanti a sé come una pagliuzza davanti a un tornado la mazza colpì crocchiando il pugno che reggeva il coltello e la sua oscillazione spezzò il polso indebolito portandosi via la mano piantata sui chiodi come un trofeo un istinto sconfisse l'altro e Asek impugnò il sassofono con la mano rimasta brandì lo strumento mantenendosi in equilibrio incerto la Jensen menò un altro colpo che andò a vuoto perché Asek si chinò e con un fendente fortunato spezzò la tibia della donna perdendo tuttavia la sua arma improvvisata nell'operazione il sassofono rotolò sul pavimento e la Jensen le allontanò con un calcio mentre cadeva Asek si allungò verso lo strumento ma la Jensen avversaria non meno temibile a terra aveva fatto roteare la mazza e l'aveva colpito al gomito spaccandogli l'articolazione e spingendo l'osso attraverso la pelle ormai praticamente indifeso Asek si guardò intorno vide Ella che tentava disperatamente di attinuare con le mani il fendente mortale di Varnov vide anche un istante prima che la mazza chiodata della Jensen lo privasse di quella percezione il bambino che era suo figlio sgusciare inosservato dalla porta aperta beh che dire che strano finale e questa è stato è stato è stato un esempio di come si può usare il tema dei morti viventi in modi diversi infatti qui non avevamo gli zombie classici alla Romero ma una libera interpretazione dell'autore molto carino ma il finale mi ha lasciato un po' in sospeso peccato bene per questo racconto è tutto io vi do appuntamento al prossimo episodio di no edit ma prima di lasciarvi il premietto così come ho fatto per il finale della storia come cari di Pavlov do la possibilità a chi è arrivato ad ascoltare fino a qua di votare per decidere il prossimo libro da portare sul format no edit numero 1 Groucho Marx memoria di un irresistibile libertino una sorta di bio o autobiografia in chiave comica alla Groucho Marx David Lynch in acque profonde racconti tratti dalle sue esperienze di meditazioni trascendentali e poi Roald Dahl l'autore della fabbrica di cioccolato in un gioco da ragazzi e altre storie fatemi sapere nei commenti che libro volete che legga dopo dopo questo dopo questo che sta per finire questa era la penultima no la terz'ultima storia mi mancano solo due e abbiamo finito detto questo vi saluto e buona giornata ciao ciao ciao